Un gruppo di lavoro che fa capo alla regione Abruzzo ha studiato le strategie per seguire pazienti affetti da malattie rare condizionati dall'esplosione dell'epidemia da covid-19. Anche in questo caso gli obiettivi sono evitare il contagio, avere un'assistenza che sia la migliore possibile da parte di quelle strutture che ora hanno concentrato le loro attenzioni verso i pazienti covid positivi. Dal gruppo di lavoro è scaturito un documento che ha dato origine ad una ordinanza, la numero 40 del 20 aprile, firmata dal presidente della regione, Marco Marsiglio. Veramente l'Abruzzo con questa ordinanza ha cercato di dare un grande segnale di attenzione e di stabilire una serie di provvedimenti che ci aiutano. I piani terapeutici di tutti i pazienti con malattia rara, quindi quelli che riguardano non solo i farmaci nello specifico ma anche gli alimenti a fine speciali, gli ausili, gli integratori, tutta una serie di dispositivi che sono necessari alla vita quotidiana del malato raro, sono tutti automaticamente rinnovati come da normativa AIFA di 90 giorni, tutti quelli scadenza marzo-aprile e maggio. L'ordinanza indica anche alle ASL di prevedere dei percorsi covid free per quei pazienti con malattie rare che hanno assoluto bisogno, anche in questo periodo, di recarsi negli ospedali per svolgere terapie. Sempre le ASL devono attivarsi per portare le medicine nelle case dei malati rari tramite associazioni di volontariato e di protezione civile. Un ruolo importante con possibili prospettive future è giocato dall'utilizzo del consulto medico a distanza, la telemedicina. La telemedicina noi l'abbiamo inclusa nella ordinanza per i malati rari e questo è veramente un aspetto molto importante. Ovviamente abbiamo bisogno di software adeguati, però abbiamo il grande supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, dove il direttore del Centro Nazionale Malattierare, la dottoressa Domenica Taruscio, si è impegnata affinché ci possano essere delle linee guida comuni per i centri che si occupano di malattierare e soprattutto si superino alcuni ostacoli. Voglio fare un esempio pratico. È chiaro che possiamo avere dei software di altissimo livello per fare le consultazioni online, ma se poi questi software sono difficilmente raggiungibili dai pazienti, l'Istituto Superiore di Sanità nelle linee guida ha detto meglio un software più banale come Skype, che però può essere alla portata di qualsiasi paziente.